Ruzza, ruzza! È gelato! È gelato! Ruzza, ruzza, ruzza! Ruzza, 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 ruzza! Ruzza, ruzza! Come mai? Ciao, ciao, mi chiede, ciao! Ah, proprio così, ha proprio sdraiarsi in terra. E ci s'affircio di troviamo e faccio dalla terra. Oh, ecco, c'è stato un' извinevo 그러co. Wow, 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 wow. Wow. perché mi hanno detto che di lì è gelato e allora è meglio andare su di qua ah non si va asciutto e va da sola questa parte e beh se la devi spiegare ah 24 la pomba stretta sotto Sì Sì se ti trovi lì a dargli gas è scivoloso Sì 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 Aspettacolo Sì 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 Sì